A Terramo si accendono gli animi tra maggioranza opposizione in vista del Consiglio Comunale dedicato al nuovo ospedale, in particolare all'ordine del giorno dove realizzare la nuova struttura. Sulla questione l'opposizione ha fatto protocollare la richiesta di riconvocazione del Consiglio, prevedendo anche la presenza del governatore Marco Marsiglio, oltre a quella del vertice della ASRI di Giosì e dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì. Inoltre, secondo i firmatari dell'istanza indirizzata al presidente Alberto Melarangelo, la seduta fissata per martedì 17 ottobre dedicata alla nuova struttura sanitaria a carattere consultivo e non deliberativo, contrariamente a quanto sollecitato dalla minoranza in una nota inviata al prefetto Fabrizio Stelo. Noi il 25 settembre avevamo richiesto un Consiglio straordinario con un ordine del giorno deliberativo e prima di noi era stata fatta una richiesta anche dalla minoranza con un ordine del giorno interlocutorio. Il presidente del Consiglio ha ritenuto questa richiesta simile, ma non è così. Sostanzialmente c'è una differenza importante. Noi vogliamo deliberare e dire chiaramente dove vogliamo localizzare l'ospedale. La seduta convocata per martedì dunque a detta dell'opposizione sarà tutt'altro che risolutiva. La sollecitazione ha suscitato l'intervento immediato del presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo. È stato convocato tenendo conto delle richieste di Consiglio straordinario provenienti prima dai gruppi di maggioranza e poi dai gruppi di minoranza e abbiamo tenuto conto delle richieste che hanno come terra ma ovviamente il nuovo ospedale di Teramo e quindi ci sarà una discussione politica di contenuto approfondita perché insomma tutto il Consiglio Comunale ha tutta l'autonomia e i consiglieri in particolare per sciorrinare ogni questione. Il nostro Consiglio Comunale ovviamente produrrà un atto di indirizzo che è soprattutto politico anche perché la cittadinanza, la comunità vuole una sanità di grande qualità e quindi noi dobbiamo rispondere a queste esigenze, a queste necessità che emergono dalla collettività. L'obiettivo del Consiglio Comunale è quindi dare risposte chiare su questa materia fondamentale che è la sanità che passa attraverso la realizzazione di un nuovo ospedale adeguato ai tempi in cui viviamo.